Un upgrade a questo progetto che già portai sul canale. Innanzitutto andiamo a smontarla. Ho notato che questo chip funziona bene anche a 6 volt. Quindi, dato che i batteri ricaricabili non vanno mai oltre ai 1,2 volt e quindi abbiamo la caduta di tensione rispetto alle batterie classiche, ho pensato di togliere il diodo come prima cosa e mettere i retti. Inoltre voglio aggiungere un connettore per la tensione esterna 5 volt. Ecco montato l'ingresso ausiliario per i 5 volt esterni, montato in modo che quando inserisco il jack, mi escludo le batterie e viceversa. Ed ecco finito. Ho messo anche dei sostegni indietro per rendere tutto più stabile e per ridurre le vibrazioni. Quindi il sole risulta un po' più, in virgolette, corposo. Ecco qui, ho messo anche il nastro per evitare i contatti con un'autoparlante. Tutti i collegamenti esatti. Ed eccola finita. Adesso sto in modalità alimentazione esterna. Attacchiamo e si accende. Attacchiamo e va in batteria. Se vi è piaciuto questo upgrade lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao! Grazie per la visione!